ti scatterò una foto devi essere impulsivo istintivo non devi ragionare non hai tempo per decidere che foto vuoi ricavare devi solo metterci la tua passione la tua curiosità anche quello che sei che ami che pensi devi essere veloce pronto a rispondere a quel momento che ti si presenta all'improvviso perché il mondo si crea ogni minuto il mondo cambia ogni minuto va a pezzi ogni minuto ti scatterò una foto è questo il bello e il tragico della vita e può stare tutto in un click ti scatterò una foto in un click di Henri Cartier-Resson grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti